Ti prego Ismael, siamo già in ritardo, eh? Maria Luigia volevo informarti che da oggi non sei più fidanzata Va bene, ne parliamo più tardi E di conseguenza anche io non sono più fidanzata È ovvio Ismael Allora addio Ciao Quello che era stupefacente in quella donna era la straordinaria lentezza nei tempi di reazione Ero assolutamente affascinato da quel fenomeno e l'avevo anche studiato Il tempo a mia disposizione per sparire in colume da quella casa oscillava tra i 22 e i 26 secondi Avevo calcolato che mi sarebbero bastati appena per uscire in strada e... BASATO! Che voce la Maria Luigia Come se qualcuno dall'alto del campanile avesse fatto cadere un pianoforte dritto su un deposito di lampadari di cristallo